Lo sporco entra nella rete tubiera, arriva alla centrale aspirante. Quando entra nella centrale aspirante c'è un filtro che filtra quell'area, quello sporco che è entrato nella macchina e la parte più pesante, quindi la polvere, lo sporco vero e proprio, cade nel secchio della centrale aspirante. Mentre la parte più leggera, quindi le micropolveri, che sono quelle effettivamente dannose per la salute, vengono espulse all'esterno, quindi vengono riemesse nell'ambiente esterno. Nel momento in cui vengono riemesse nell'ambiente esterno, sono comunque così piccole queste particelle che si disperdono, per cui non sono visibili a occhio nudo, non vanno a inquinare quello che è l'ambiente outdoor.